Che cosa succede? Che per migliorare la situazione ogni tanto si fanno delle pensate, delle iniziative che non sempre sono felici. Per esempio, ieri è andata in Parlamento, ha cominciato l'iter parlamentare, una proposta di legge almeno curiosa. La proposta cioè di concedere ai grandi alberghi, i 5 stelle per intenderci, la possibilità di adibire alcune sale a casino, cioè mettere roulette, slot machine, bull, tutto quello che trasforma un salotto in un saloon. Questo naturalmente dovrebbe portare un giro di danaro abbastanza interessante ma naturalmente trasformerebbe molto la natura del nostro turismo che offre possibilità artistiche e culturali ma sul piano del vizio insomma siamo nella norma, qui usciremo un momento della nostra tradizione di accoglienza. Non tutto gioca a favore di questa iniziativa che mi dà l'idea di scopi bassamente e biegamente commerciali. Non mi pare che ci sia bisogno per attirare gente da noi in questo paese che ospita quasi il 90% di tutti i capolavori immortali, che ha una natura particolarmente favorevole. C'è bisogno delle slot machine, non credo, io capisco a Las Vegas che se non vai in un casino ti impicchi perché intorno non c'è niente, è deserto e quindi ti attacchi alle slot machine e stai lì imbesuito fino a notte fonda. Ma qui da noi puoi uscire, faccio un esempio di Roma, puoi andare a vedere la Cappella Sistina o salire a Gianicolo e guardare giù. Insomma voglio dire, ci sono delle alternative, non c'è bisogno di chiudersi in una sala che una volta si diceva fumosa, non si può dire più perché manco si fuma. Si spennano delle persone che poi vanno a fumare nei terrazzini e a piangere anche perché hanno perso quasi tutto. Insomma, questo nuovo sistema per incrementare gli incassi della voce turismo non trova tutti d'accordo, come potete capire da quello che dico io. Perché non è così che si rimedia al calo del 10%, perché questo è stato il calo del bilancio turistico dello scorso anno, è calato del 10%. E noi vogliamo recuperarlo con tre campane, le ciliegie? No, no. Non ci appartiene, non fa parte della nostra tradizione, non è giusto. Non c'è bisogno, accidenti. Io capisco che molti operatori del settore, alcuni, la metà degli operatori non hanno molti scrupoli e quindi sarebbero anche disposti a allargare il panorama delle entrate con questi metodi bassamente commerciali. Però non è giusto, non è così che si gestisce l'accoglienza. Noi abbiamo una tradizione alberghiera e turistica straordinaria, non mandiamo tutto in vacca per arraffare soldi.